Ben trovati e buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di ARPA. Al fino a giovedì la settimana trascorrerà l'insegna del tempo instabile, variabile, con nubi diffuse e qualche schiarita, rovesci e temporali e tratti anche forti. Successivo probabile peggioramento e temperatura impicchiata. Il dettaglio, oggi lunedì 21 settembre, un vasto sistema depressionario stazione sull'Europa centrale e favorisce l'afflusso di correnti umide e instabili sulla Liguria, dove il cielo sarà in prevalenza coperto. Le nubi lasceranno spazio attemporane e schiarite lungo le coste e saranno accompagnate da rovesci e temporali diffusi, soprattutto nell'entroterra. Nelle ore centrali non si escludono locali fenomeni forti, venti deboli in prevalenza da nord sul centro ponente, dai quadranti orientali a Levante, mare mosso in calo fino a poco mosso, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 23 e 27 gradi, nelle zone interne tra 22 e 25 gradi. Domani, martedì 22 settembre, scenario meteo che non cambia, dunque sulla Liguria ancora tempo instabile con cielo grigio, brevi schiarite lungo le coste, rovesci e temporali anche forti, soprattutto nelle ore centrali, nell'entroterra e dalla serata. Venti deboli a tratti moderati in rotazione ciclonica al mattino di direzione variabile al pomeriggio, mare poco localmente mosso, temperature minime in diminuzione lungo la costa intorno 18-19 gradi, nelle zone interne intorno 14-15 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 22 e 24 gradi, nelle zone interne intorno 20-21 gradi. Dopodomani, mercoledì 23 settembre, precipitazione a carattere temporale, anche forte nella notte di primo mattino, successivo parziale miglioramento ma in un contesto di variabilità residua all'interno del quale saranno possibili schiarite e fenomeni generalmente moderati. Venti nord orientali, moderati o forti, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio, mare mosso in aumento fino a molto mosso, temperature minime stazionarie lungo la costa intorno 18-19 gradi, nelle zone interne intorno 14-15 gradi, massime stazionarie lungo la costa intorno 22-23 gradi, nelle zone interne tra 19-21 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!